Gaia, Marti, Ludo, Kate, Cele, Bea, Noe, Ade, Ile, Thea, Ariannina, Noe, Uniari, Kami, Cose, Rebi, Ari, Saretta, Auro, Carlotta, Annina, Vanessa, Mia, Greta, Giulia, Rebecca, Ambra, Greta, Greta, Emma, Maya, Leti, Luda, Eri, Maddi, Marti, Auro, Ale, Marti, Michi, Fisch, Ari, Ila, Vala, Ila, Simo, Ambro. Quadra 1, quadra 2, quadra 3, quadra 4, ricordatevelo, 1, 2, 3, 4, facciamo che formate già le squadre, va? La prima sfida è trovare un nome ginnico. Guarda, che nome avete scelto? Il Varicata Stella, ok, squadra 2, qual'era la squadra 2? Chi era? Timo, vai. Le travi. Le travi? Squadra 3? Da volteggio. Da volteggio? Da volteggio. Da volteggio. Squadra 4? Che lo dice? Le bike del cambiaggio. Le? Le bike del cambiaggio. Ok, ora ci riscriviamo un secondo. Allora, per questa sfida prendono 3 punti la squadra da volteggio. Come metto a me. 2 punti le bike del cambiaggio. 1 punti di Varicata Stella, 0 punti le travi. Adesso, ricordatevi con che squadra siete, guardate i componenti della vostra squadra. Adesso abbiamo nascosto nel centro sportivo San Viaggio, quindi dentro ai cancelli, è vietatissimo uscire dai cancelli, la campanella. Voi ora vi dovete sparpagliare per tutto il centro sportivo. Se giocano a calcio, a tennis, evitiamo il calcio. Ah, ok. La prima che la trova, la squadra vince. Ok? Siete pronte? Siete pronte? Siete pronte. Siete pronte. Però non perciami, perché sennò... 3, 2, 1, via! Duriamo, duriamo! Grady, che squadra sei? 1. 3, 2, 3, 3, 2, 1. 3, 2, 3, 2, 1. 3, 2, 3, 2, 1. 3, 2, 1. 4, 2, 1. 4, 3, 2, 1. 4, 2, 1. Ma non c'è allora questa campanella? E lei è niente? Sì che c'è. Sì che c'è. Veramente! Ma! 5, 1. 5, 1. No. 5, 2, 1. 5, 2, 1. 5, 1. 5, 1. 5, 1. 5, 1. 6, 2, 1. Non si può fuori. Non hanno pure visto e me ne hanno mica visto. Cioè hanno... è trovata Martina Cato di che squadra sei? Di che squadra sei? Annina di che squadra sei? Quattro Allora, chi è che ha trovato le campanelle? No, impossibile, tutte? Una bimba, tre bimbe hanno trovato le campanelle Anna, Cato e Greta Ok, quindi Anna che squadra sei? Quattro Quattro e lì? Uno Potete fare il tifo Pronta la prossima? Vai, 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 vai Celle è pronta No, Celle non è pronta Celle, preparati A Parallele non siamo bravi neanche qua Vai, Celle 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 Quindi a loro tre punti Ciao bimbo A loro tre punti A loro tre punti Poi Tre Secondo Tre Secondo loro Secondo Secondo Due punti Due punti Terze Terze Le baes del San Biagio E ultime Divaricato Stello 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 h Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti La squadra di Maya Grazie a tutti Non tanto Non mi ricordo il puntone Ti devi toccare la testa con due piedi Grazie a tutti 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 Eccomi Grazie a tutti Grazie a tutti Vai Grazie a tutti 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 Buongior Buongior Grazie a tutti Buon Grazie a tutti Buongiorno Grazie a tutti 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 Buongiorno Grazie a tutti